ciao benvenuti in questo nuovo video oggi faremo la torta alle mele per cui avremo bisogno di 8 grammi di lievito 100 grammi di burro fuso 250 grammi di farina 250 grammi di ml 200 250 grammi di ml nel senso 250 ml di latte va bene di latte 50 grammi di farina 250 ml di latte 200 grammi di zucchero 4 uova 2 o 3 mele intanto abbiamo già imburrato infarinato una la teglia e adesso andremo a battere le uova con lo zucchero like iscrivetevi e condividete il video con i vostri amici aggiungiamo latte e burro fuso andiamo ad aggiungere farina e lievito che abbiamo meschiato al nostro composto allora con il nostro composto prepariamo un letto per a su chi do potremmo mettere le miele che ho preghiato a fare allora ricopriamo con il restante impasto inforniamo per 175 gradi per 25 no per qualche minuto circa 25 minuti no non mi ricordo inforniamo a 175 gradi per circa 35 minuti a dopo per l'assaggio abbiamo tirato fuori la torta adesso la cospargo con un zucchero a velo e la lasciamo raffreddare per l'assaggio allora la torta si è raffreddata andiamo all'assaggio like iscrivetevi e condividete il video con i vostri amici iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale